Allora, l'episodio scorso abbiamo finalmente trovato Wimbar e quindi di conseguenza anche Constantine, anche se dopo uno scontro con il Gran Sovrano abbiamo avuto l'Amelio e l'abbiamo sconfitto, quindi è morto e abbiamo riportato Constantine a casa, ma anche se è guarito dalla Malikor, in realtà è guarito ma a un certo prezzo, nel senso che Sebastis sembra, ecco, almeno nell'aspetto, che si sia trasformato in un isolano con i ramoscelli che riprescono in testa, un po' le vene verdi così dall'aspetto, vabbè, e pare si senta bene, ora però bisogna eleggere un nuovo Gran Sovrano e dobbiamo convincere i tre pretendenti a stare dalla nostra parte, praticamente, io inizierei con Dankas, visto che siamo in buoni rapporti, allora, parla delle lezioni del Gran Sovrano, ma sembra si è dato un po' fuori di testa, però, dovrebbe essere uno dei loro che vogliono prendere il suo posto? Io non ho cercato di potere, ma Tifradi ha bisogno di pazza e un equilibrio, e io credo che gli altri kings potrebbero vogliono la guerra, o essere motivati per l'ambizione. La renaise ha portato il caos con loro, e l'Amelio ha sofferto. Noi non possiamo cambiare il passato, e chassi che venissero non funzionare. La scena è morta, non riuscita a capire che non è nulla, ma le scena possono essere healati, e il mio clan sape come fare questo. Quindi, se sei preoccupi di fare miei intenzioni, se sei tornare Hoi King, io li ho provo per voi. We must find balance with those from the remote island And live together in harmony But for this, we must teach the Renikes a humility And to respect the earth I would like to meet Enon Milfruchtemann In order to find an antidote for the disease that is destroying my people If you were elected, would you help me in this endeavor? You are a Karantz of our clan And I have witnessed your wisdom and benevolence I would be glad to help you meet Enon Milfruchtemann And I pray that he will help your people But you should know that my election is far from certain The spirits are divided And some are thirsty for revenge Would there be a way to make sure that you get picked? I do not like the idea of using such a method But yes, there is a way The High Kings of old wore a legendary crown But it is said that the path towards it is strewn with spears And that its entrance, situated near a large dead tree Is guarded by a Nardai Magamen It is a deeply holy place And a guardian will not let anyone enter without a fight If you do decide to go there, fill your heart with humility and respect For those who rest there were great men Now we've earned the trust of one of the pretenders We just need to find that crown Are you certain you are willing to influence the fate of all my people to meet Enon Milfruchtemann? I understand that you might find this idea unpleasant But the survival of the whole continent relies on this encounter, Siora It is my feeling that you do not understand the consequences of such a decision Everyone on the island will listen to the words of a High King It may be wise to make sure your pretenders' intentions are compatible with yours And if it's not the case, to find another We wouldn't want to be the architect of a future we don't like, would we? You're right It's a decision that is more important than our quest for an antidote I must dwell on it Beh, lui comunque è per la pace e l'equilibrio Quindi direi che andrebbe anche bene Però fammi vedere Un attimo la mappa La mappa Vedi, però comunque Possiamo anche parlare con gli altri Quindi io Non me lo segna Non posso segnarlo però Vabbè andiamo Adesso qua viaggiamo Facciamo una chiacchierata Sì, anche con gli altri La farei Sto per capire Sarà qui, vediamo Quindi lui ci sostiene se Gli troviamo la corona Vabbè Ok, possiamo anche farlo Però ecco Prima di trovargli la corona Vediamo un attimo Lei Per lei una missione l'abbiamo fatta Non so Mi ricordo Parla delle lezioni I am the bearer of bad news Your High King Vinbar Is dead Dead? Andevojt Tirei He was a good king Drive away Drive away the Renaiqsi And take back our island They want to enslave Will you drive us away too? We will drive away the Renaiqsi You are on all menaqsi You will have to pick a side I see If you were to be elected I would need your help To allow me to meet Enon Mill Frigdeman Only he can help us cure the Malachor Why should you be preoccupied With the disease Striking those we want to drive away? I have my own reasons But you should know This is the best way For the Renaiqsi To leave the island Of their own accord You have helped my people You are our currants as well You can count on me to help you Once I am the High Queen I will lead you to the Sanctuary You seem certain you will obtain the title Those who covered victory Must do everything they can to obtain it Don't you agree? The old kings wore a legendary crown Which was lost during the war Against the people of the sea Whoever were to retrieve it Would be chosen And you know where it is? I believe it is located In the tomb of the kings A holy place not far From the village of Vignamri I do not know exactly where it is But it is said That the path leading there Is thrown with spears And that the entrance Is marked by a dead tree And protected by a Nadaig Magamen Do not worry I will find this place And retrieve the crown Before the election If I want to be certain of the outcome of this vote I'd better go and get this crown myself Anything more? Ho capito Allora qual è la La faccenda Cioè la corona E la quest comune Per trovare la corona Sicuramente adesso che andiamo a parlare Con l'ultimo pretendente Vorrà anche lui la corona Però cambia Però cambia ovviamente Le cose che farà uno Farà l'altro Questa qua Scaccerà praticamente Il popolo Del Del continente In sostanza Anche se però Comunque dalla nostra parte Quindi ci aiuterà comunque A trovare una cura Cioè a parlare con Il dio Quello che è Aspetta però Perché qua Devo andare Esatto Di qui Ecco Se uniamo Ci aiuterà Al prezzo Di aiutare poi lei Credo Secondo me A scacciare Quindi andiamo contro Il popolo del continente Ok In sostanza Dankas è più per l'equilibrio E la pace Quindi Insegnerebbe l'umiltà Alla nostra gente Cosa che Ha anche ragione Eh E sentiamo Lui Alla nostra gente To what Do I owe The pleasure Of your visit I regret To inform you That your High King Vinbar Is dead Andi vursht Thierre He was A great man Although He left us A long Time ago But why Have you come To notify me Of such Sorrowful news Glendan Has informed me That you Are most likely Among those Who will want To take his place It is true And I will Perhaps be able To obtain it I understand That you may Be worried About my intentions But rest assured I seek only To bring peace To our lands Peace brings life And prosperity By creating An alliance With the people Of the continent The lives Of our people Will be improved And happier There is something I would like To ask of you If you were To be named High King I would be thankful If you could allow Me to meet Enon Miel Frigdeman Of course If I become High King I would be glad To help you You are Carance of Ignamri After all If you really Want to make sure That I win You will need to Since he fought His last battle Nearby The entrance To his burial mound Is said to be guarded By a Nardyg Magamon The part That leads to it Marked by his spears And its entrance By a large Dead tree But beware The Nardyg Will not let you Enter without a fight Anything else Ok quindi Alla fine Nothing I must go Penso Che facendo anche Quando abbiamo fatto in passato Le missioni per uno Per l'altro E avevano Tutte lo scopo Di aiutare No L'isolano Il capo isolano di turno Per poi Questo momento Perché Se non Non avessimo fatto Tutte quelle missioni Sicuramente Anziché essere Già dalla nostra parte Al 100% Non lo sarebbero stati Quindi Poi lui invece Pro Proprio Favorisce La gente Del continente Credo al 100% A questo punto E secondo me Se daremo la corona a lui Per quanto poi ci aiuti Come tutti gli altri Gli isolani spariranno Secondo me Fanno la fine Degli indiani D'America Quindi io Tra i tre Sceglierei Dunkas Alla fine Che forse è quello più Equilibrato Magari Forse Vediamo Beh Comunque sicuramente Scelgo lui Tra i tre Mi sa che Ho sbagliato strada Ma adesso Ok Sto mirando Ok Aspetta Perché indicava di qua Eh vedi Ho sbagliato strada Qua c'era un altare Sì Mi ricordo Però mi sono bloccato Ok Sì sì Dunkas Secondo me È la scelta migliore È la scelta migliore Sì Forse creiamo veramente Un po' di Coesistenza Ed equilibrio Tra la nostra E la loro gente Ok Abbattiamo un attimo Queste bestie E anche se poi Dobbiamo affrontare Boss Mi sa Qua è giusto Sì Ma forse Ma forse io L'avevo già affrontato Sì Che l'avevo già affrontato Eccolo lì Eh sì eh Cioè l'avevo affrontato Per i fatti miei Perché ero venuto Di qua A esplorare Quindi siamo Già a posto Ok Sì sì Mi ricordo Andavamo già a posto Però forse di qua Era chiuso Non credo fosse aperta Caverna Vabbè Comunque L'ho affrontato Prima del tempo Praticamente Come il mio solito Alla fine Eh Due volte Capita sempre così Ok Qui ci sono Bestie Due E tre Ok Ok Devo andare Qui no Però anche qua La mappa Me la dà Esplorata Bleh Porto Ma non Non mi sembra Di esserci entrato Eh Potrei anche sbagliare Ha passato Un sacco di tempo Magari è venuto qua Per un altro motivo Ah ma sì 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 Cran già stati qua Però per un altro motivo Mi ricordo Sta struttura Qui Ah è questa la corona Aspettavo Un altro tipo Però vabbè Adesso dobbiamo scegliere A chi darla Ovviamente Cosa ti fai là Cosa ti fai là Cosa ti fai là Cosa ti fai là Qui ci fai là Conversi Conversi E tu Ti fai Entri E scatri Cosa Non c'era Qui Con l'intenzione Di Diffiare Questo Non Cosa ti fai Per un Cron Di La Cosa Cosa Per Per Il Nel Non Cosa ti fai Cosa Eh Sì Ma Non 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 Sì, non è dubito. Se lasciate la corona, diventerà la Queen. Non potresti cambiare la tua mente. Cedi la corona? Chiedi cosa intende fare? Ma questo l'avevano già chiesto. Tieni la corona. Ma richiediamoglielo. Se ti dico la corona, dovrai diventare la Queen. Cosa farei con questo potere? Sì, hai già chiesto a tutti che sei non come la altre Inaixe. Non vi farò non farlo. Tiè Fradi non vuole volare il loro persone. Sì, partiamo con noi. Voi, partiamo con noi, partiamo con noi, partiamo con la partiamo, partiamo e partiamo. Voi, partiamo con la mia gente, partiamo con la mona Inaixe. Voi, partiamo con i passi. Voi, partiamo e partiamo. Questa vuole la corona, quindi puoi più di più di me. Esatto, praticamente lei verrà contro tutta la nostra gente Guarda, io me la tengo Eh, immaginavo Vabbè, proprio dobbiamo Ok Pensavo che ci facevano scegliere se ammazzarla o meno, ma no, non l'avrei fatto Ok, si è arresa, però Si è arresa Ok La diamo ad Ancas, ovviamente Vediamo un po' Certo, se un altro avrebbe fatto C'è alla fine una condotta Cioè, avrebbe perseguito una condotta cattiva Mi l'avrebbe data, presumo Poi, non lo so Comunque, usciamo Andiamo da Da Ancas Si, in effetti, però aveva un po' ragione Almeno lei è venuta di persona A prenderla, eh Gli altri belli, belli, tranquilli Seduti Dove stanno lì? Aspettano me Praticamente E vabbè Allora, qua Aspetta, il Un accampamento Ah, qui Ok, più vicino Ok, si Secondo me Forse Ancas È La scelta più equilibrata Ok, va bene coesistere Ma Allo stesso tempo Gli insegnerebbe Un po' di umiltà Cosa che farebbe bene Un po' a tutti Ok, di qua Direi Eh, però Potevano Adesso non lo so Ma potevano anche fare Che Vabbè Non lo facciamo Ovviamente C'è questa possibilità Ma Ce la teniamo noi Cioè Teniamo eletti noi Eh, gran sovrani Così facciamo quello Che vogliamo No, aspetta Ah Ah, non gliela Devo consegnare Ah, scusa Eh, Dancas Dov'era? Che qua Andiamo da Quel tizio là Era qui Andiamo a vedere Un attimo Scusa, eh Vediamo Se becco Dancas Mi pare fosse qua A meno che Devo scegliere Dopo A chi darla Andiamo Eh, sì La casa di Dancas Credo fosse questa E infatti Eh, no, vedi Allora forse Ok, la devo dare dopo Cioè Devo seguire la missione Principale Prima della votazione Gliela do Magari Non so Va bene La voglio Dovergliela dare prima Ok No, vabbè che Sa che con i nostri compagni Abbiamo terminato da un po' di tempo Ah Ah, vedi qua Ecco qua Qua devo scegliere Offri la corona al pretendente che preferisci Sì, vabbè Se la offro a lei È un po' un controsenso Visto che prima ho deciso di tenerla Però Nel mentre posso aver cambiato idea La do ad Ancas Sì, vabbè I went into the tomb I found the ancient crown of the high kings And so you entered into one of our most sacred places May this adventure have brought you wisdom And understanding of our people And of your own history This relic is venerated The one who wears it will certainly be elected But you know that, do you not? Si metto tu I need to be certain That whoever is named Will help me meet Anon-Mehl-Frygtemann I have pledged my honor To help you And my words are true But more is being played here Than a simple meeting You know that I work For a tempering of spirits The healing of wounds Of Tifredi And those of your own continent But the decision is yours To the daughter That was lost And re-found on our island Ok, consegni la corona Take it I trust you In your wisdom May we be guided Towards a peaceful future The council has begun to unite It is time for me to go Thank you for choosing me I will do all in my power To bring you what you desire You have my promise It is like When she is gone The papa It is something of the same I will string it up Mother ς- Hur sie- Ur- Uw Ur rent Ur 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 Ok, faccia a faccia con un dio Pagoljász, Dunkas! Mi segítsen, hogy egy nagyon érteni kállapodása. És meg? Jól vagyok, hogy megválasztott a promisztatot és meggyújtok a hústának. Különöm a hústának az különbözőt. ma secondo le tradizioni devo andare al Sanctuary a mio own senza la blessione di Tifradi il mio titolo è nulla ma semplice ma non c'è ma fretta come potrei essere se mi avessi se volessi per la promessa che ho avuto il mio amore as soon asi che sono electi meet me al Sanctuary's entrante in due giorni e io aprivo le porte per te grazie Dunkus sarò là tutti noi saranno prezzi durante questi due giorni per Enonmiel Frichtum per la bless il nostro chiuso ma non abbiamo di stare qui e fare niente possiamo andare a un'altra cosa se volessi occupati beh ma non ho nient'altro no non ho non ho altre missioni ho fatto tutto a parte gli incarichi vabbè che non reputo proprio missioni secondarie diciamo riputo dei compiti ecco se vogliamo a parte quelli che vabbè non è che mi interessino poi alla fine più di tanto un po' ho provato a farli ma un paio non non li trovo lo so ho girato non li trovo vabbè sarò io che guardo un luogo sbagliato comunque missioni secondarie non ne avevamo a parte quella del professore anche quello è legato comunque all'esplorazione nulla che mi interessi troppo diciamo di missioni vere e proprie non ne abbiamo a parte quella principale quindi direi di aspettare due giorni e andare lì direttamente va ecco così ci risparmiamo il dover attendere noi buon per te ah sì cioè devo tenere il sentiero a destra e non devo neanche voltarmi ah sì vabbè ok a destra sto a destra non mi giro guarda vado di qua diretto aspetta eh controllo ci sono passaggi ma sto sto dritto di qua vedere la mappa ok la mappa posso guardarla spero spero ok sempre a destra sempre a destra per forza però ci dovremmo essere sì ok qua ah sì che è un albero sarà questo ok il cuore il cuore eh ma beh non andiamo armati cioè presenza di un dio ah no cioè dicevo ok 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 e così il figlio che è stato fatto è ritorno la carne della mia terra tu, per sempre venire in modo hai vantato la strada di destino di tutti gli altri figli I am he, the old Enon Milfrichtimen. I have followed each of your steps since your arrival. I hail you, Enon Milfrichtimen. I have come to you to find a remedy. A cure for the disease of a distant land. Her affliction was to be poisoned by her own children. Her veins rocked in stagnant water. Her earth now bears poisoned fruit, and her children wither and die. And still it is those same children who can heal the lands, and with them heal themselves, if they only wanted truly. They could be taught by my children. Learn to give back in return. Learn to heal. But for that, I must survive. I have seen by your side the shadow grow, taking form. Fed by the venom of intrigues from far away lands. He spreads it today in my sap. To save his own life, he stole my strength. And that strength has driven him mad. Because it is not made to be taken. He draws each day a little more from me. And threatens us all. His hunger has no limit. I don't understand. Who are you talking about? The one you call constantly. You must stop him. Or there will be no cure anymore. No more for anything or anyone. That's... that's impossible. How could that be? You must leave now. Someone has followed your footsteps. Someone has entered here without invitation. My children are waking and tracking. They will attack all for us. You must leave now. You will be able... You must leave now for… You must leave. Because he's able. You must have a power. You must have been able for those. Constantine? Ah, he's able to do this. della terra? Ma... ma grazie a quel rituale che ha fatto o già prima di tutto? Oh, eh, a fargli due domande adesso, eh. Ma grazie a tutti, ma non ho capito come. E riferisce a Constantine? Sì. Più che altro parla con Const... per riferire. E dove siamo? Ah, qui aspetta, c'è un punto di domanda. Ah, ecco, c'è un accampamento. Eh, posso viaggiare da qua. E sono in cima al monte. Andiamo da subito. Vorrei qualche risposta. Se ti devo ammazzare, almeno voglio sapere perché. Nello specifico. Sì. Quindi la Malikor c'è perché il continente è malato, in sostanza, o del genere. Grazie al progresso industriale, avvenamento, eccetera, 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 l'ambiente. Ah, sentiamo, dai. Ho idea che è da prima che sta facendo sta cosa di rubare... diciamo la linfa della terra, proprio... sembrava un... po' un tipo... po' così... po' così... po' così... ...segno a che tutti in la sala è un po' così... ...c'è un po' sorprendente, non è? Ma per favore, Voi, Voi, ...d'explica a noi cosa ti ha portato qui. Sire, ho venuto a chiedere il vostro aiuto. Abbiamo trovato un pochino di attacchi. Sì? Ci sono i nativi dietro di questo, non? ... se non ci sono quelli di giudizio. Non ci siamo sicuri, ma è quasi sicuro che i nativi sono coinvolti. Governor Byrne is hoping that you could send him your cousin As well as some troops It would seem that we are in a similar situation, sire Our city has been sustaining terribly violent assaults And our losses are great Our mother cardinal is begging you to send her some help as soon as possible Dear allies Knowing that you are in such a delicate situation fills me with sorrow However, the size of our troops has greatly reduced after the horrific attempt at a coup And regarding sending my cousin She's already very busy undertaking a mission of the utmost importance Without even mentioning the fact that what you describe fills me with fear for her life Which is most precious to me No, I really don't see how I could be of assistance to you Constantine, we cannot remain deaf to the call of our allies I'm sure I can find the time to go and evaluate the situation I would love to accompany you But my people are being wrongfully accused I am certain of it, and I want to prove it Very well, my dear You know I cannot refuse you anything But remember how urgent it is for this antidote to be found We are so close to it now Don't worry about it You know how important this mission is to me Well, this audience is coming to an end Your Excellencies, inform your governors of my cousin's arrival I hope that you realize how grateful you should be to her Absolutely, sire And we thank you both for receiving us May the Enlightened always keep you in his divine blessing Attacco a San Mateus Aspetta Che lui è illuminato L'attacco a Hitme Incontra il governatore Eh, aspetta Però Eh, no Eh, riferisce a costi nel santuario Nuova minaccia E io vorrei parlare con lui Dov'è? Sparito Da qui Ah, ok Scusa, eh Eh, non belle Parla dell'incontro I finally managed to enter the Sanctuary at the heart of the island And I was able to talk with Enon Milfruchteman How marvellous Tell me about it The Sanctuary is heavily protected Only a High King can open it I remember you saying that Vimbar's death wasn't going to help us How did you fix this problem? I had to interfere in the natives' elections And earned the trust of the pretender who seemed to be the best choice You really are an outstanding diplomat My father is an old, bitter man, but he was right about you Tell me, who did you choose? Duncas He's the king of the village of Vig Yigido And a Donegad full of wisdom I am certain that you have made the right choice And then what did you do? I was able to enter the Sanctuary It was an incredible experience It had to be Oh, how I envy you Entering the most secret places on this island Talking to a god What does he look like? Is he some kind of very old and very powerful Donegad? No In fact, I spoke to an extremely large tree As strange as it may sound Fascinating And I thought that gods were always old-bearded men Did he tell you where the Malachor was coming from? Is it a curse that he cast upon the first settlers? No According to him, we are responsible for the emergence of the Malachor By exploiting the Earth so much We have poisoned it And the disease has contaminated us through the water we drink and the plants that we eat Strange, and yet it seems plausible So there wouldn't be an antidote He says that the Earth can be healed That his children know how to do it I suppose he was talking about the Donegada He also said that by healing the Earth, we would heal those who live on it This is a fascinating revelation It won't be easy for our neighbors to accept it, however I'm afraid that even my father might receive it with skepticism Did he tell you anything else? No, but it's true that the conversation ended abruptly An intruder had managed to sneak into the sanctuary And we had to flee to evade the wrath of its guardians An intruder, you say? Then I guess this sanctuary isn't that heavily protected Your work really is exemplary The entire continent should be thanking you Is there anything you would like to tell me? Secondo me No, sto guardando Il suo vincolo all'isola Che ne ha You told me that during the ritual with Katasak You felt the bond that he had created It's true And it was an incredible feeling I felt like I was every blade of grass in that remote place I could see everything Feel everything And I knew that I could bend the trees to my will Do you still feel that way? Yes But in a more dull, muffled way The first time it was surreal And perfect In fact, I don't know if there's a word for it The first time? The first time it happened Now it's as if I've become used to feeling this bond Secondo me Per ora la faccenda è messa da parte Ma secondo me ci torneremo sopra Ora dobbiamo occuparci San Mateus e Icmet Praticamente Ma Avevo adoprima San Mateus Non so Vediamo 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 Intanto Dobbiamo tenerlo sott'occhio Se è un dubbito Che abbia mentito L'albero Lì parlante Quindi Questo che è un dio Secondo me Nasconde qualcosa A sto punto Vediamo 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 Vediamo